Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevamo ancora giocare a Stambul Guys con voi. Non vi preoccupate per la serie. No ragazzi, non vi preoccupate per la serie. Lo sapete perché? E tu non vado. Perché? Allora, la corona io l'ho presa io. Ah, lui. Aspetta. Allora, io non vi preoccupate per la serie. La continueremo domani. È vero che la continueremo domani, la serie? È vero? Sì, sì. Ma perché a te era bianco? Stavo caricando. Che? Si stava caricando. Si stava caricando? Non si è creato un gruppo. Sì, vabbè, ma a te è bianco. Che è successo? Ragazzi, aspettate un attimo. Ok ragazzi, abbiamo risultato il problema. Abbiamo chiuso tutto. E abbiamo messo Stambul Guys. Speriamo. È sempre... Ah, no, ecco qua. È uscito finalmente. Yes! No, no, non puoi cliccare gioca. No, non sto cliccando il gioco. Ti devo dare il codice. Allora, aspetta. Che lo guardo io. Basta, mi carichi. Scusate, è carica. A presto, mi prendo questo giro gratis. Scusate, mi prendo la garaglia. No! Per poco si stava 150 gemmi. E io esplodivo proprio il canale di gemme. Vado con le gemme. Allora, 37. 54. A presto, ma... Era 37? Sì. Mi riscordate, allora. 54. Adesso stanno 4, eccolo. E 2. 2. Conosci? Conosci il canale? Ti dico io quando puoi fare. Vai, gioca. Ragazzi, guardate qui di nuovamente insieme perché... Ma perché a me non si carica? Si deve caricare per forza. No, 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 no. Perché? Scusa. Aspetta. Che hai fatto? Allora, ragazzi, ora aspettate un attimo. Intanto iniziamo a parlare nel frattempo. Così sprechiamo il video. Eh, va bene, ma... Cioè, così non è tanto bello che io gioco e tu no. Ma chi sarà... Che sarà successo? Non iniziamo a parlare. Eh, va bene. Dimmi la tua vita in Stambul Guys com'è? È difficile, eh? È difficilissimo. E tu nemmeno ti alleni, quindi ti sarai sempre. Eh, va bene, io non mi alleno, però ogni tanto gioco una partita con te, no? E ogni tanto con me? Che? O devo essere la tua animatrice di Stambul Guys? Eh, no, non devi essere la mia animatrice, però... Va bene, ragazzi, da oggi diventano le animatrici di papà. Eh, va bene. Devo giocare solo Stambul Guys. Oggi vediamo se si vende. Vabbè, mancano quattro persone all'arrivo e quindi... Yes, abbiamo fatto... Aspetta, stavolta lo creo io. Benissimo. No! Mi ha fatto ricominciare da capo. Non fa niente, dai. Ragazzi, guardate qua. Aspetta, fammi vedere se veramente... No. No. Ma che cosa? Ma guarda, come in giro da capo tutto questo? Adesso, pronta? Forse un bug. Adesso, crea. Crea. Ma ti dico come crea. Mi scuoti? No. Come no? No, lo devi fare, mi scuoti. Non ha nessun motivo. Allora, devi scrivere... 87... Eh, gruppo, giusto? Sì. 87... 87... 20... 20... 8... 8? Sì, fatto. Ok. Conosso. Stavolta ve lo mi... Stai unendo al gruppo, ok... Gioca. Si gioca, finalmente. Speriamo che ve lo fa! Per una cosa che sto registrando qua con papà. E' stupido. E' stupido. E' stupido. E' che bellissima di te. Pochino sarà di più di 50 parti. La devo sprecare veramente. Eccoci qua. Mamma mia, questo è difficile. No! Per me è difficilissimo. Vieni vicino a me, sono la principessa. Eh, la principessa. Eh, e non mi vedi? eh no già sono caduto giù eh come faccio a salire eh bugiardo arrampicati come mi arrampi saltenza tende ragazzi oggi sono da oggi divento un'animatrice di papà dopo questo video papà dopo pubblicato devo dire papà metti stamo guys così ti alleni così per il prossimo video sei forte e riuscirai a vai ragazzi ci siamo quasi vai mi sto per qualificare forse anche io forse anche io mi qualificherò credo che loro si qualificherà mai sali te lo faccio io vai io io posso farlo io solo questa mappa Aspetta, Aspetta 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 Aspera Aspetta सpera Ragazzi, mi sono qualificato anche io E lo state accade e non si qualifica Non sono mai sc E non ci vogliono qualificare questi due, stanno aspettando qualche altro concorrente. No, sono dei amici. E questi sono qualificati. Oh, and the memory of Sunday Day. Visto che non si possono mettere le cantoni, è fatto io. Allora, dove siamo? Ah, io sono la principessa comunque del tuo. Le skin del principessa. E' la skin più rara che ho nel mio inventario delle skin. E tu si sponda! Siamo quasi pronti? Oh, questo è la vive, mamma mia, com'è antipatico. What? No, guarda, mi vedi? Aspetta, guarda, sono la principessa, c'è scivolato. Quando cammino e porto sto ozzo, dopo non riesco a capire più niente. Guarda, faccio così, faccio così, guarda, vai, vai. Allora, ci vado di qua, di qua. Ma tu non capisci quando uno parla? Aspetta, 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 aspetta. No, me ha buttato giù. Ma tu non capisci quando ti elimina solo qualcuno se ti butti due e chiede una. Perché io non so. Ma stiamo, ragazzi, è così. No, testa me! Vai ragazzi, mi sto per qualificare. Mi sono qualificato. Ok, ci siamo qualificati in otto, tutti e otto. Adesso mi farei iniziare a me la finale. Se sarà la finale. Altrimenti facciamo sempre il mille minuto. Questa è la finale, è la prima finale che facciamo insieme. In realtà io quella finale l'ho fatta io. Eh, però io dico che la facciamo insieme, io e te. Questa qua non può essere la finale. Che cosa è questa? È Bokdash. Invece di Bokdash è il nome Alicondaro Bokdash. Ah, per me non ho Dash? No, mi ha buttato giù. No! Mi ha buttato giù. Non è lì. Aspetta, aspetta, clicca in quando non è essere avventi testa. Ok. Non è la finale! Sì, è la finale. Ma la finale deve essere solo uno, un qualificatore. Esatto. No! Esatto. Abbiamo preso il secondo due. Ragazzi, scusateci se il video lo facciamo lungo. Ci scusiamo veramente se i video li facciamo lunghi. Noi però vorremmo farli corti. Ma se siamo noi che ci vogliamo scusare per voi i video sono così lunghi, per favore perdonateci, vero? Esatto. Eh sì, dai facciamo un'altra faccina. Ah, nulla, vai a nulla. Facciamo un'altra faccina. No! Non che vuoi, famiglia? Non ho fatto niente. Dai, tagli la pubblicità. Così, è caldo, è caldo. No, 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 no. Togli la pubblicità, me lo vedo io qua, ma a morire, non ti preoccupare. No, a gioverì. Hai visto? Vedi tu come si muore? No, però a gioverì. Dai, togli questa pubblicità. Perché a morire? No, pure a te ha fatto gioco, forse. No, non ha fatto gioco. Dai, dammi a me, ci penso io a Maurizio. Stavo scioppando per sbaglio. Ragazzi, ma stavo a scioppare. Aspetta, un altro giro di ruota gratis. Ragazzi, sono stato eliminato. Ragazzi, veramente, ci scordiamo per chi vi... 15 gemma, ma prima ce l'ho... Era proprio buono, ottimo. Dai, facciamo quest'altro video. Dai, facciamo quest'altro... Quest'altro. E se la vinciamo, perché di sicuro i video poi non facciamo il lungo. C'hai fatto, hai partito senza di me. Aspetta, mo' perdo per restare con papà. Ma se esce, blocco d'as. Incomincia a fare il gruppo? Guarda, che faccio. Sì, un attimo. Incomincia a fare il gruppo. Sì, il gruppo lo stiamo. Ragazzi, lo sapete noi cosa faremo? Faremi i provini su StumbleGuys. Sì, lo sapete perché faremi i provini? Perché così, io e i fan, ci metteremo a fare le partite insieme su StumbleGuys. Ma sì? Sì, questi qua sono i problemi. Proveni. E taccatemi con un video di Blockdash, poi di altre mappe, perché prima vi devo vedere come siete bravi su Blockdash. Ma non devi vincere. Ma devi vedere. Io sto aspettando a te dove vinci. Vabbè, mo' vinci pure la seconda. No, va bene. Eh no, è che la peghi a fare. Ormai vinci, eh. Vinci pure la finale. Ma pure, ragazzi, se lo facciamo lungo, poi dobbiamo farlo più insieme a papà, perché questo qua è più un allenamento per lui. Dai, vinci queste due altre gare e poi facciamo la partita insieme e ce ne andiamo. No, è... Questo è difficile, ottolo. Vuole dire che io non mi qualifico. Eh, come ti qualifico? 8 di loro si possono qualificare. È un merito, non è proprio distinguere. Tu ti qualifichi nei primi 8? Prima! Ci sono persone che sono bravissime qui. Perza! Ma perché? Uh, ero qua di seconda. Ero qua di seconda. Ah, sono seconda! Vai, va dai! Non sapete che ci sono anche gli hacker? Vai, vai, non li pensare agli hacker che sono una banda di stupidi. Non è vero! Io voglio diventare un hacker. Non so, ma perché mi hai tirato pure fare la YouTube. Sei arrivata seconda. Ah, boh, almeno mi sono qualificata! Vedremo se vincere la finale. Spero che non lascia... Sì, c'è il blocco d'accio. 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 Io voglio super slime. Ma basta! Che staccano la soff... Questo che cos'è? È la finale! Eh, ma come si chiama questo? Aspetta, c'è il blocco d'accio. Oh, ma faccici delle patanelle. Sei morta? Papà, sono morta frettata. Ma qua ci arriva per primo? Sì, papà, è la finale. È la finale, è la finale. Ho capito che è la finale. Sei l'ultima. Sono fritto ormai. Ormai sono fritta. Eh dai, cerca di fare qualche... Ormai sono fritta. Cerca di fare qualcosa di meraviglioso. Ma io non so fare trick! E il trick è ballare. Sì, ma non so nemmeno cosa sono i trick. No, io non so... No! No! Dai ragazzi, facciamo... Apetta, sono quasi morto, mi devo uccidere prima. Ok. Apetta, devo prendere una cosa. Dai, fai questo codice che... No! 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 C'è più, manca il medico. La cagata è uscita. Va bene, fai questo codice. Allora, 96... 96, 69... Apetta! 96... 69... Wow, wow. 3. 3. Ok. Unisci. Unisci. Gioca! Gioca! Lo sai che vuol dire spelling? Sì, vuol dire che no. Gioca! No, sì! Ma ora! No! però è pure una cagata eh vabbè perché ok no oh oh hai visto da qua quale culo ma quale culo ragazzi se lui si qualifica è un po' difficilotto per me ragazzi se lui si qualifica voglio commenti sotto sto video e invece io mi si qualifico voglio 80.000 mi piace per favore perché sto iniziando a fare una cagata qua sto facendo il video cagata ragazzi mi sono qualificato io sto continuando il video cagata non c'è possibile ma io mi sono qualificato e tu no e ormai ho fatto il video cagata cioè quindi come funziona funziona che io continuo e tu no no eh no ho fatto il video tutte quale cagate allora continui tu a posto mio no tieni continui tu a posto mio e io devo chiudere questo video perché ok ragazzi ciao un attimo anzi guardiamo papà come gioca al posto mio ok ciao 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.